Bentornati, oggi voglio farvi vedere un lick, una frase che potete utilizzare quindi per espandere il vostro vocabolario in un contesto più jazz. Come sempre vi invito per prima cosa a fare gli esercizi sull'accordo in questione, in questo caso mi minore settima, e studiare l'arpeggio su tutta la tastiera, con le varie posizioni e le varie diteggiature, pensando sempre alle note dell'accordo. Posso partire con l'indice, tonica mi, terza minore con il mignolo, annulare, quinta, indice di nuovo, settima minore. Oppure partire con il mignolo, quindi mi col mignolo, terza minore con il medio, quinta con l'indice, settima minore con il medio, di nuovo mignolo e l'ottava con l'indice, quinta con il mignolo e la settima minore con il medio. mixando le varie opzioni e suonando su più ottave, in questo modo studio l'accordo su tutta la tastiera. quindi proviamo a fare gli esempi suonando comunque note in ordine sparso, non sempre tonica, terza, altrimenti l'ottava, ma variando anche la disposizione delle note. Vediamo. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. in cui rimettere tutte le tonalità, prendo il so e il minore. L'altro consiglio è quello di ampliare l'accordo, innanzitutto modificarlo leggermente su un'area settima maggiore invece della minore, che è molto ricorrente, soprattutto in ambito jazz, ma non solo, e quindi l'accordo diventa una triade minore, mi, sol, si, re, diesis, invece del re, il settimo maggiore invece del settimo minore. E fare gli stessi esercizi, però è molto cambiato. L'altro consiglio è quello di suonare anche le altre note dell'accordo, e quindi trovate tutto nel pdf, e l'altro consiglio è quello di suonare anche le altre note dell'accordo, e quindi lo chiamiamo le estensioni, quindi la nona, unicesima, una tredicesima, e nel caso di Mi minore, sebbiamo a Mi minore settima, unico il re naturale, La nona diventa Fa diesis, l'undicesima di La naturale e la tredicesima maggiore di Fa diesis, maggiore poi vediamo perché, scusate che ho detto, Fa di Do diesis. E un piccolo trucchetto per suonare tutto questo accordone, arrivare alla settima minore, quindi Re, e dal Re suonare un arpeggio Major Se. Quindi Re Fa diesis, La appunto, e Do diesis. Partendo dal Mi Questo suonare tutto questo arpeggio di tredicesima Se volete invece pensare più al Sol maggiore, è utilissimo anche questo, pensate a un arpeggio maggiore nona con undicesima metà. Per esempio, il classico accordo di un nuovo video Quindi sarà Sol, Si, Re, Fa diesis, la settima maggiore, allora La, e l'undicesima aumentata, che è Do diesis. Trovate tanto tutto, come sempre, scritto nel Pb. Avrò tonica, terza minore, Sol, Si, Re, Fa diesis, La, Fa diesis. Stavolta però, pensando appunto all'accordo di Sol, diciamo, nona maggiore, undicesima aumentata. Trovate tanto tutto, come sempre, scritto nel Pb. Andiamo a vedere invece il link, la frase di oggi. Qui parte appunto dalla settima maggiore di Mi, andiamo un attimo, Mi, Si, Mi minore, l'accordo Mi minore settima. Un altro consiglio è provare questa frase su un accordo maggiore settima, quindi di Sol. Sol maggiore settima, una base, potete anche questo scaricare tutto dal link qui sotto. Sentire la sonorità che cambia, ovviamente, la frase rimane la stessa, ma appunto cambia il contesto armonico, l'accordo. Sentite che effetto fa, se mi piace, appunto potete utilizzare frammenti o l'intera frase anche su un accordo maggiore settima. E la frase, la faccio lentamente, è questa. Allora, il primo frammento è una terzina con la pausa, per essere precisi. Il primo movimento, quindi pausa, settima maggiore tonica. Altra terzina con, appunto, l'arpeggio di... le note dell'arpeggio di Mi minore settima maggiore. Adesso arrivo alla terza minore, l'ottava sopra, l'escema minore. Faccio questo classico giochino. Pensando a Mi minore sarebbe... nona minore, quindi fa naturale, fa diesis, nona maggiore, settima minore. Poi scendo e torno alla base, a Mi, con la triade di Mi minore. Rissuono la settima maggiore. Faccio un cromatismo dalla quarta diesis, che è un La diesis al Si. Terzina, quinta, settima minore, ottava. E vado sul Si, che è la quinta. Settima minore, nona. In questo caso mi conviene, appunto, pensare al Sol, al l'arpeggio di Sol. Io utilizzo questa vitteggiatura, però, appunto, per cambiare. Poi faccio questo cromatismo abbastanza classico. Dal quarta giusta di Mi minore, o comunque, meglio pensarla appunto in Sol, nona maggiore, terza minore, terza maggiore. Quindi i nostri sono La diesis Si. Terza minore, Sol. Rifaccio Fa Fa diesis. Giochino prima. E chiudo con B, con gli armonici, che sono un Fa diesis, un Si, quindi andando con B minore, nona. Colendo anche Do diesis. Sesta nona. Vediamolo tutto insieme. Consiglio di studiarlo a frammenti. Quindi, finché non mi entra molto bene in testa e nelle dita, e fare appunto frase per frase. Seppure farlo in altre tonalità, sempre bene, quando si studia una cosa del genere, farlo almeno in 4-5 tonalità. Ora, prendiamo il Sol minore di prima, e lentamente verrebbe una cosa tipo. Eccetera eccetera. Quindi, andiamo a sentire con una base in minore settima come funziona e se funziona questo leak. Dopodichè, provatela in altre tonalità e in altri contesti armonici, quindi con un accordo maturico. Tutte esperimenti che possono piacere o no, però è sempre bene provare tutto. Andiamo a vedere come suona questo leak e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! 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 Ciao!